Mense Gasser è leader in Italia per produzione di confetture e leader europeo per la produzione di monoporzioni. La missione di Mense Gasser è quella di dare ai propri clienti la sicurezza totale. Avevamo la necessità proprio di dare un qualcosa in più rispetto ai raggi X, al metal detector, alla normale tecnologia che abbiamo su tutti gli stabilimenti. Biometric con la Mito ci è sembrata la soluzione giusta. Abbiamo scelto questa tecnologia della tomografia perché rispetto a tutta l'altra tecnologia questa ci permette di individuare il corpo estraneo anche nei multipack. Noi dobbiamo considerare che andiamo a confezionare tra i 25 grammi e i 25 chili, passando per la monoporzione in plastica, per il vaso in vetro, per il secchiello. Il plus valore aggiunto dal Mito è che attraverso una ricostruzione tomografica permette di avere un'immagine 3D rispetto a un'immagine 2D che le tecnologie generalmente e attualmente presenti sul mercato riescono a offrire. La tecnologia ci ha permesso quindi di identificare per esempio frammenti di vetro di una grandezza prossima ai 2-3 mm all'interno di confezioni multipack in vetro indipendentemente dal posizionamento del corpo estraneo che è stato testato in diverse posizioni e diversi livelli all'interno del pack stesso. Grazie per la visione!